Ma ciao Rihanna, benvenuta, accomodati pure nel mio salone di bellezza, è un onore per me averti qui nel mio modestissimo salone, accomodati certo, certo, come posso aiutarti? Sì, ti serve un trucco? Certo, sono qui prontissimo per te, e che tipo di trucco ti serve? Ah, un trucco per una campagna pubblicitaria? Ah, ecco perché sei qui in Italia, qualche nuovo lancio della tua linea Fenty Beauty? Ah, segreto, non si può dire, beh magari qualcosina mi potrei svelare, dai, mentre ti trucco Eh, perciò un trucco, insomma, neutro, o vuoi qualcosa che spicchi? Qualcosa che spicchi, ok, benissimo Lo posso fare senza, senza, senza problemi Allora, io direi di non perdere altro tempo Io ho tutto ciò di cui ho bisogno So che devi fare questa campagna pubblicitaria Io ho tutto qui davanti a me Ho fondotinta, illuminante, correttore, rossetto Ho tutto qua davanti pronto per te Sei pronta? Allora, iniziamo subito Allora Prima ancora di iniziare Io direi di andare a pulire il viso So che ovviamente tu sarai pulitissima Ma Comunque dobbiamo andare a tirare via un po' Lo smoke, la polvere che puoi aver incontrato Nel venire qui Perciò io andrò a tirare via il tutto Con questa acqua micellare 3 in 1 Deterge, strucca e purifica viso, occhi e labbra Ed è della Cleanance Contiene tè verde e magnolia Ed è senza alcol, senza profumo e senza parabeni Andrò ad utilizzare Questa qui su di te E poi ovviamente ti passerò anche un tonico Vado ad utilizzare Dei normalissimi Dischetti di cotone Possono essere dischetti di qualsiasi marca Non devono essere per forza Degli Chanel Va benissimo Che questi qui di cotoneve Sono 100% puro cotone Ne prendo uno E vado a utilizzare Questa acqua micellare Ok La vado a rimettere via Volto ad avere sempre il campo di lavoro libero E vado a pulirti piani Piano, piano Vado a pulire tutto Ti vado a pulire la fronte, le sopracciglia, gli occhi, le labbra Il collo, tutto Vado a disinfettare per bene tutto In modo tale da partire con una pelle libera, pulita e pronta ad accogliere il make up Che è la base più importante Ecco Ok Abbiamo quasi finito Anche perché se non avevi nessun make up al tozzo Non avevi nulla Era solo per andarti a tirar via L'eventuale sporco Dovuto dall'ambiente Ecco Però direi che sia Assolutamente a posto Ok Adesso vado a fare lo stesso identico passaggio Ma con questo tonico Della Thermolab È un tonico anti età Viso Anti aging Tonifica E rivitalizza delicatamente il viso Senza alcol E contiene acido ialuronico Questo lo utilizzo anche io tutte le sere Prima di mettermi a letto E lo trovo fantastico Ah ne hai sentito parlare anche tu? Beh Allora se ne hai sentito parlare anche tu Vuol dire che è davvero molto buono Il prezzo non è proprio dei più buoni È perché costa 8,50 euro Questa boccettina qui Infatti bisogna sempre centellinarne Però Per non invecchiare Questo Ed altro Vado a prendere un altro dischetto di colore E vado a pulirti per bene Vado a tonificare per bene il tuo viso Senti che profumo meraviglioso Fantastico E anche questo lo vado a passare su tutto il viso e anche il collo Esattamente dove ho passato l'acqua micellare in precedenza Vado a fare lo stesso identico passaggio Lo stesso identico passaggio Lo stesso identico passaggio Anche il collo Non dimentichiamoci mai mai del collo Mai 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 del nostro amico collo Ok Passo bene sopra gli occhi Ok Perfetto Io direi che ci siamo Sì Mi sembri adesso perfetta per accogliere la nostra crema Prima di tutto Io Vado ad utilizzare Non una crema Ma bensì Un acido ialuronico Come base Per il nostro make up Vado ad utilizzare questo Tubo Viene chiamato appunto A pet up Un grosso tubo di acido ialuronico Il 100% naturale Perché insomma Qua bisogna fare qualcosa Per fermare il tempo E visto che non abbiamo I milioni Per farci fare qualche punturina Si fa quel che si può O no? Hai ragione Tu hai milioni Per farti le punturine Hai ragione anche tu Ne vado a prendere proprio Poco poco Perché di questo Ne basta pochissimo Guarda Vado a prenderle proprio così E lo vado a distribuire Su tutto Tutto il viso Sulla fronte Per bene Sotto gli occhi Sulle guance Sul mento Ovunque Sul collo Ovunque Lo vado a distribuire Per bene Ovunque Questo si assorbe Immediatamente Si assorbe davvero Davvero Subito E sentirai Immediatamente Il fresco Che ti rilascia Rilascia Un fresco Fantastico Guarda Mettiamo pelle Qua di fianco Ai lati Ok Vedi Ti lascia la pelle Un pochino Ambicicosa Ma è il suo lavoro In modo tale Che poi dopo Sarà la perfetta Base Per il nostro trucco Il trucco Si andrà A fissare In modo Perfetto Allora Visto che Io non sono Minimamente Ricco come te Non ho Il tuo fondotinta Il tuo fendi Più di da 40 euro Ma ne ho Ok Ok Come noi Immortali Perciò Esatto Vado ad applicarti Su tutto il viso Questo fondotinta Molto carino E soprattutto Economico E te lo vado ad applicare Con Una Normalissima Beauty Blender Vado ad applicare Vado direttamente Un po' qui Un po' qui Su tutto il viso E sono a posto Ecco Proprio così Chiudiamo Il nostro fondotinta Perché Non ce ne servirà più È full 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 Coverage Proprio Perfetto Si Nel frattempo Si sta per scatenare Una Un super Temporale Eh Ma Mi è patato Tu sei andata in macchina Giusta Ah Con la limousine Bene Bene Benissimo Poi andrai direttamente A fare lo shooting Ah Bene Bene Allora Picchiettiamo Per bene Perché noi qui Lo vogliamo Applicata Alla Perfezione Ok Direi che Siamo a posto Fatti Un attimo Girati Beh Io lo vedo Perfetto Questo fondotinta Per te Meraviglioso Adesso Prima di andare A settare Tutto Con la nostra Cipria Vado a Correggerti Un pochino Gli occhiai Che hai Sotto Gli occhi E qualche Altro Rossore E andrò Ad utilizzare Questa Palette Di Correttori Sempre Delle Essence Essence All I need Concealer Palette E vado a Prelevare Prelevare Un pochino Del colore Più chiaro Questo Qui L'ho dovuto Prendere Sempre con La mia Beauty Blender E te lo vado Ad applicare Sempre con Questa E sempre sotto Gli occhi Perfetto Sempre così Perfetto Così Vado ad applicare Anche Sulla fronte E sul Mento Proprio Così Ok Guarda Io direi Che Il Correttore Siamo A posto Direi Che Siamo Venuti Divinamente Aspetta Sistemiamo Un pochino Qui Ma per il resto Siamo A postissimo Poi Adesso Vado a Fermare Il tutto Con un pochino Di cipria Utilizzo Sempre Questa Qui Dell'Essence Oggi Non facciamo Pubblicità A Venti Beauty Ma pensi All'Essence E al nostro Portafoglio Soprattutto Questa Questa Dell'Essence All About Matte Fixing Compa Powder Una cipria Translucida Lo so Che tu sei Appena Uscita Con la tua Nuova linea Di cipria Ma No no Cara Troppo Costosa Manteniamo Questa Mi vado Utilizzare Un normalissimo Pennello Da cipria Anche qui Tu dici Potrei Potevi Usare il mio Ma Troppo costoso Preleva A creare Dei problemi Perchè No Non vogliamo Di brutti Brutti Problemi Alla nostra base Giusto Ok Con la cipria Abbiamo Finito E' venuto Benissimo Si Direi che ti stia Davvero Molto Molto Bene Poi adesso Io direi Di fare Un pochino Di Contouring Ma Anche qui Ovviamente Non utilizzerò I due prodotti Per fare Il contouring Prodotti Eccessivamente Costosi Ma andrò Ad utilizzare Un prodotto Di Di Invenzione Diciamo così Non voglio Vantarmi E' un prodotto Fantastico E' un prodotto Super scrivente Che va A creare Un contouring Fantastico Abbiamo Questo Pennarello Questo pennarello No No Non è assolutamente Un pennarello Per scrivere Per disegnare E' un pennarello Per fare Contouring Guarda Abbiamo Questo Piccolo Piccolo Punta E ti vado A fare Il contouring Con questo E poi Vado a sfumare Con la nostra Beauty Blender Tutto Qui Così Così Vado a mettere Anche sotto Il menta Così Benissimo Eseguo anche Tutto Il profilo Della fronte Così Perfetto Così Benissimo Sì Questo è un prodotto Di mia invenzione Le mie clienti Ne vanno Pazze 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 Super scrivente E lo vado A sistemare Con la nostra Beauty Blender Tutto Sulla fronte Su tutto Tutto Sul viso Vado Anche qui Giù Proprio Qui Sul mento Per andare A creare Un look Perfetto 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 Ok Abbiamo quasi Finito Con il nostro Contouring Sulla fronte Perfetto Perfetto Io direi che sia Perfetto Così Poi Adesso Prima ancora Di andare agli occhi Ti vado ad applicare Un pochino Di blush Proprio Ah non vuoi blush Benissimo Benissimo Allora direi di passare subito All'illuminante Quello non può mancare Vado ad utilizzare Quest'illuminante Di Makeup Revolution London Questo Vivid Baked Highlighters Questa è della colorazione Vivid Golden Lights Ed è un colore Meraviglioso Chiaro Chiaro Ma stupendo Guarda Meraviglioso Anche questo Te lo vado ad applicare Con una Beauty Blender Normalissima In modo Tale che faccia presa Per bene Guarda Che meraviglia Meraviglia Una meraviglia Guarda Mamma mia È di uno scrivente Questo Illuminante Un pochino sul Naso E un pochino Sul mento Ne vuoi ancora Un pochino Dimmi tu A posto È veramente Molto Molto Illuminante Questo Illumina Da far paura Adesso Io direi Di passare Agli occhi Per gli occhi Utilizzerò Per te Questa Pro HD Amplified 35 Palette Di Makeup Revolution London Di Labro Questa La faccio vedere Subito Ed è Meravigliosa Guarda Che Meraviglia Stupenda E per te Andrò Andrò Ad utilizzare Colori Un pochino Più Scuri Un pochino Più Pazzerelli Andrò Ad utilizzare Questo 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 Perché Mi hai detto Che vuoi un look Un pochino Più Particolare Giusto Ok Allora Io direi Di partire Subito Come prima cosa Io vado a riprendere La mia palette Di correttori Prelevo un pochino Di correttore E lo vado a stendere Sulla palpebra Come base Per i nostri Ombretti Proprio così In modo tale Da averlo già Come base Chiara Per il nostro Occhio Perfetto Poi vado a prendere Un pennello Sempre Dell'essence E vado a prendere Questo Colore Qui Anzi Non te li faccio vedere Ti farò vedere Alla fine Parlevo Vado a creare La nostra Sfumatura Ok Meraviglioso Parlevo ancora Un po' Dello stesso colore Vado a creare Un look Super 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 Intenso Meraviglia Ecco qui Poi adesso Vado a prendere Un colore Più chiaro Per andare a fare Una sfumatura Sia in quest'occhio Sia in quest'occhio Che nell'altro occhio Vediamo ancora un po' Io direi di prendere Ancun altro colore Un pochino più chiaro Per andare a diluminare Un pochino Tutta la palpebra In modo tale da creare un colore Perfetto 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 Questa palette E' veramente molto Molto scrivente Perciò Stupenda Cosa ne dici Ti piace Bene Benissimo Ok Prendiamo ancora un attimino Ma abbiamo quasi finito E con gli occhi Perché è venuto davvero Semplice Semplice Prendi anche un pochino Di colore Vado a sfumare Sotto E con gli occhi Abbiamo terminato Adesso Io ti vado a passare Un pochino Di Mascara Questa Mascara Di Wet n Wild Questa Make up protein Mascara Che è il colore Very black Bellissimo Colore Proprio nero intenso Te lo vado a applicare In alto Anche di qua E anche sotto Ok Pensa Rihanna Truccata con tutti i prodotti Drugstore Abbiamo Essence Wet n Wild Make up forever Beh Magnifico Da un'altra Passata E siamo a posto Il mascara È Terminato Si stende Meravigliosamente Poi Per completare Questo look Io ho pensato Io ho pensato Ad un rossetto Un nude Questo è Iconic Matte Nude Revolution Lipstick In colorazione Last È un colore È un colore Stupendo Meraviglioso È un matte Stupendo Ed è molto simile Alla merita Che indosso io Stupendo Stupendo Te lo vado ad applicare Adesso Ti sta di incanto Con questo illuminante È davvero la fine La fine La fine Del mondo Stupenda Mamma mia Guarda È molto carino Con la scritta Make up revolution Stupendo Ok E questo look È Finito Cosa ne pensi Rianna? Ti piace? Io lo trovo Meraviglioso Tu cosa ne dici? Bene Mi fa davvero piacere Beh Ovviamente Nella tua campagna pubblicitaria Voglio come Make up Il mio nome Ovviamente E mentre ho fatto io Il make up Sono io il tuo make up artist Eh Insomma Devo avere un po' Devo essere riconosciuto Eh Grazie 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 Gentilissima Sì Mangami qualche prodotto Dai Un po' di fondotetina Un po' degli tuoi illuminanti Cipre Mandami un po' di tutto Dai Anche un po' di body lava Fantastico Allora io aspetto tutto Tanto l'indirizzo del mio locale Lo sai E io colgo tutto a braccio aperto E così poi dopo Quando verrai a farti truccare Anche la prossima volta Non utilizzerò più Essence Ma utilizzerò Fenty Beauty Grazie 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 mille Allora Questo look è fantastico Meraviglioso E mi raccomando Fai uno shooting Meraviglioso Grazie Rihanna Ciao Ciao